La tragedia si è consumata sabato pomeriggio intorno alle 17 lungo la SP87 in territorio di Acate. Per causa e tuttora il vaglio degli inquirenti, ma probabilmente dovuto all'improvviso ingresso in carreggiata, un camion condotto da un vittoriese pregiudicato di 48 anni ha investito una bicicletta con in sella un marocchino di 33 anni, Omar Rahali, irregolare sul territorio italiano e con precedenti di polizia. Violentissimo l'impatto che non ha lasciato scampo al malcapitato ciclista. L'uomo è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi, dove è deceduto poche ore dopo l'impatto, intorno alle 19.30, per arresto cardiocircolatorio causato da trauma cranico e agli organi toracico-addominali. Accertamenti effettuati dal personale sanitario del nosocomio Ipparino hanno permesso di rinvenire nascosti in un calzino del 33enne deceduto 10 grammi circa di hashish già suddivisi in stecchette. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro. Sul luogo del sinistro i carabinieri dell'aliquota radiomobile per i rilievi planimetrici. Disposto il sequestro dei mezzi coinvolti, la bici dell'immigrato deceduto e il camion di proprietà di un'azienda di trasporti con sede a Vittoria. Il pubblico ministero di turno ha disposto la custodia della Salma presso l'obitorio del Guzzardi per ulteriori accertamenti.